E' il momento del direttore, vice direttore di Novella Bella, Nino Frassica. Eccolo qua. Eccolo. Caro Fabio. Caro Nina, i marziani, gli allievi. Hai cambiato look? Eh? Hai cambiato look? No, ho messo il vestito grigio, ma è sempre lo stesso look. E allora, come dicevano i nostri anni, andiamo alla sigla. Ma non lo dicevano. Ma non lo dicevano. E' tornata Novella Bella, Nelle case, Nelle case, Nelle case. Grazie, con la pesce. Con la pesce di Martino. Di Martino. Allora, se mi cade, mi serve il leccio. Ma ogni volta facciamo questa scena, facciamola entrare, se, subito. I due Gigi, Gigi Rock e Gigi Marzullo. Benedetta Parodi, sconvolta, non vi dico i nostri due campioni, cosa stanno pensando, ma io lo vedo. Caro Gigi, come va la settimana? Quando va la settimana? E' tornato quel bestione, quel energumeno di 180 kg. Ma quello che te l'ha picchiato? L'aggredito. Il manioco sessuale, quello che mi ha salito settimana scorsa. E' tornato? Sì, è tornato. Mi ha portato un mazzo di fiori, mi ha invitato a un locale qui all'Ambrate, una cenetta allucinò, allucinò. Allucinò. Potesse che c'è il nidofino. Sì, non so se non si accettare, sinceramente. Non sai se accettare? Non so se accettare. E come è andata la settimana Marzullo? No, dice, che ne dici? Tu accetta o non accetta? Accettalo. Accetto? Accetto. Trova in ascure. Come dice il proverbio, se sono rose, roseranno. Esatto. Gigi Marzullo, come è andata la settimana? Questa settimana sono andato in giro a fare le commissioni. Vabbè, vabbè, ma è finale ora si fanno. Vabbè, questa settimana su Novella Bella parleremo di Lille Gre... G. Blo. Lille Gre, G, non Blo. Amanda Lee. R. Roteur. Ma perché Roteur? R. Jody Foster. R. M. Giuga. Luca. Ska. Luca. Ska. Ska. Parliam. Ma che tre? Che tre? Martin Scorset? Ska. Ska. Marco Travà? Marco Travà? Io. Tro. James Bo? D. Ska. Grazie. Ska. Grazie. Ska. Oggi 19 novembre è San Liserto. Ska? San Liserto. Auguri a tutti le Riserti e le Riserte. San Liserto è il protettore di quelli che vanno a Pisa e sbagliano a fare la foto dove reggono la torre. E' un santo che protegge. San Liserto. Santi. I compleanni. I compleanni. Auguri al sessantottino Fausto Brizzi. Non può essere. Non può essere. Non può essere. E' nato nel 1968. Ho capito. Auguri a Giuca Scasella. Ti ricordi come diceva sempre? Troppi truppi, troppi truppi. No. Non me l'ha fatto. Auguri a Martin Scorsese che ha lanciato il grande Robert De Viro per film Il Tassinaro. No. Taxi Tracker. Toro Scannato. No, Toro Scatenato. No, Taxi Tracker. Auguri a Amanda Lir. Sì. Nota per la sua storia con Salvatore Dalì. Sì. Che usciva con Dalì. Dalì e Lir. Andavano da qui a Lì a Lir. Che poi erano amici di Bruce Lee. Spesso si vedevano dire Dalì a Dalì a Dalì. Auguri a Biagio Izzo, il figlio di Simona. No, non c'entra niente. Augurattina Cipollari che sicuramente sta guardando a casa sul divano insieme a Marco Travaglio. Certo. Mentre mangiano panino e porchetta. Figura di ogni volta. Auguri a Jodie Foster, premio Oscar per Il Silenzio degli Indecenti. No, Il Silenzio degli Indecenti. Che indecenti. Jodie, Jodie, cugina di secondo grado di Mago Foster. No, Forrest. Vabbè, vabbè. Un compleanno a Carlo Verdone. Sì, è stato fatto il compleanno. Il più bravo attore italiano, attore, regista. Sono pazzo di James Bond. No, Iris Blond. Io, loro e l'apo. No, ma che io, loro e l'apo? Io, loro e l'apo. Ho visto. No, che hai visto? E adesso, a pagina 88, classifica dei libri al quinto posto. Al quinto posto, il pediatra dei Caraibi. Il pediatra dei Caraibi. Al quarto posto, perdere peso, giocando a briscola. Come si fa a perdere peso? Si utilizzano carte che pesano 40 kg. 40 kg, sì. Al terzo posto, terzo posto. Terzo posto. Terzo posto. Imparare a cadere di faccia a terra senza farsi male. Non è possibile. Quello serve. Non è possibile. Al secondo posto, rimane in classifica, il panda della Magliana. E al primo posto, resiste al primo posto, la panda della Magliana. Eccola qua. La classifica dei cinque libri più venduti. Grazie mille. Gossi, ultima pagina. Gossi. Simone Ventura si sposa. Ebbè, forse. Chi lo sa, così c'è. No, di nuovo la marcella. Un grande chef, grande chef si chiama Guevara, sai? No. Con la collaborazione di Benedetta Parodi. No, ti prego. Con la collaborazione di Benedetta Parodi. Sì. Sta preparando un pranzo internazionale. I dolci, lo sai, li firmano? Dolce Cabana, firmati. Le sarde vengono dalla Sardegna. Ah, certo. Le pesche da Pescara. Pane da Panarea. Le susine di Val di Susa. Le mele di Melegnano. La spezia della spezza. I galli e i polli da Gallipoli. Tanti messaggi hanno ricevuto i due sposini. E noi, di Rovella Bella, in esclusiva, abbiamo un video messaggio di auguri per gli sposi. Per Simona e Giovanni. Per Simona. Simona Ventura. E' sicura. Simona si scotta. E' una bella cosa. Simona Ventura. E' sicura. Simona si scotta. E' una bella cosa. Al trenino. Prassima. Com'è? Buongiorno. La bella, bella. E' una bella cosa. E' una bella cosa. Grazie.